sai qual è il posto giusto per parlare di sostenibilità verrebbe da dire questo piante alberi tanto verde ma anche se non direste esiste un posto migliore qui il 5 novembre firenze sarà il posto giusto per parlare di sostenibilità dentro il teatro del maggio si tratta il primo next generation fest le iscrizioni sono gratuite ma i posti limitati datti una mossa